Come si rapportano questi due soggetti in questo progetto? Dunque, il carcere è un microcosmo, come tutti sanno. Ci sono anziani, ci sono adulti, ci sono giovani, ci sono mamme e ci sono bambini. Il nostro è un dipartimento che ha quattro curricoli, per i bambini, per i problemi comunitari, per gli anziani e per il lavoro. Allora, la solidarietà fra il nostro lavoro e quello del carcere è nelle cose. A noi piacerebbe tanto che i nostri studenti pensassero l'analisi dei problemi che i detenuti hanno come uomini e come persone, ma poi l'accompagnamento a loro per l'inserimento nel mondo del lavoro quando sono giovani ed adulti e l'accompagnamento esplicito a loro nel momento in cui sono anziani e a maggior ragione questo tipo di servizio quando i detenuti e le detenute hanno bambini e quindi cercare di costruire una solidarietà esplicita fra la ricerca scientifica e l'azione sociale che in un carcere trova l'occasione per svilupparsi a 360 gradi. In pratica quindi questo progetto cosa consente? Questo progetto consente da un lato di aumentare la nostra presenza nelle attività del carcere interne ed esterne e dall'altro lato di trasformare il carcere stesso in un oggetto di ricerca scientifica. Noi dobbiamo produrre appunto ricerca e abbiamo già previsto numeri speciali della nostra rivista di fascia A a livello internazionale su questi temi dove coinvolgeremo non solo nostri colleghi ma anche persone che in carcere contribuiscono a sviluppare questo tipo di lavoro. La cosa importante è anche la connessione con il territorio. Non può essere soltanto l'università e il carcere che si mettono in rete ma università e carcere devono essere i motori di una relazione, di una rete sociale che si amplia a tutte le altre articolazioni del territorio perché senza questa solidarietà si rischia di essere velleitari in ogni iniziativa. Ma è un impegno che vede coinvolto un po' tutte le istituzioni perché si sta parlando comunque sempre di un mandato istituzionale e quello della rieducazione sociale dei detenuti. La collaborazione con l'università ormai è datata credo che il primo protocollo sia del 5 ottobre del 2004 quindi sono oltre 12 anni è una collaborazione ben collaudata che ha dato già i suoi frutti infatti parecchi detenuti riprendono la scolarità parecchi detenuti proseguono facendo anche l'università quest'anno sono tre gli iscritti all'università e in più la collaborazione è un po' più ampia perché diamo l'opportunità all'università di fare tirocinio all'interno della struttura infatti ogni anno c'è almeno un seminario che viene fatto agli studenti dell'università dicevo che coinvolge più istituzioni perché oltre all'università c'è il CPA che è l'educazione permanente per adulti che stabilmente ha otto insegnanti che cura la parte della scuola media secondaria ci sono le cooperative che collaborano con noi noi tentiamo di dare un'offerta che sia a 360 gradi che riguarda sia la scolarità ma anche e soprattutto il lavoro la formazione professionale e quello che è indispensabile sono gli affetti gli affetti come punti di riferimento all'esterno per quando si rientra nella società civile e quindi